Musica Adriano Folatti era un dentista di 47 anni, noto nel copo a luogo. Ieri mattina, sulla provinciale 21 in direzione di Teglio, lo si è andato a affrontare con un'altra moto, condotto da una 55enne, per Folatti la morte sul colpo, l'altro centauro in gravissime condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A Chiavenna, istituzioni, parti politiche ed elevatori, tutti d'accordo su un nuovo pacchetto di linee guida da mettere in campo contro i grandi predatori, obbligatorio a creare un patto regionale, nazionale ed europeo, e intanto ad albosaggio a 4.700 metri, l'incontro avvicinato fra una famiglia e un esemplare di orso, il sindaco niente alarmismi, ma prudenza, perché il problema è reale. Al Gran Premio Intercreponchiera di ciclismo, il lecchese Giacomo Agostino si lavora campione lombardo degli allievi per la stagione 2023. La Coppa Bombardieri, come miglior valtellinese, va a Matteo Compagnoni, della SD e Valtellina, pedale morbeniese. Ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione di TSN, un'edizione che oggi apriamo con la cronaca. Adriano Folatti era un dentista di 47 anni, noto nel capoluogo ieri mattina sulla provinciale 21 in direzione Teglio, lo schianto frontale con un'altra moto condotta da un 55enne. Per Folatti la morte sul colpo, l'altro centaura in gravissime condizioni, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ne parliamo nel primo servizio del nostro telegiornale. Si chiamava Adriano Folatti, l'uomo rimasto vittima ieri mattina intorno alle 10 di un terribile incidente stradale che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Folatti, 47 anni, dentista sondriese, era in sella alla propria moto, una Kawasaki, diretto verso Teglio, lungo la provinciale 21 che sale da Tresenda. La giornata di sole invogliava le uscite ed è proprio con un altro motociclista che all'altezza di una curva, il 47enne, si è scontrato frontalmente. Sulle cause dell'incidente sono attualmente in corso indagini affidate ai carabinieri di Teglio ma è probabile che la traiettoria di una delle due moto sia stata falsata dalla curva e dall'andamento. L'impatto tra la moto di Folatti e quella dell'altro Centauro, una Suzuki, sulla quale viaggiava un 55enne originario di Paderno Dugnano, è stato violentissimo. E a raccontarlo è ciò che rimane delle due moto ridotte ad un ammasso di rottami. Da quanto appreso dai sanitari, Adriano Folatti è morto sul colpo, fatale per lui il violento impatto sull'asfalto. Estremamente gravi le condizioni dell'altro motociclista, il 55enne, che dopo i primi accertamenti è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a bordo di un elicottero di Areu. Sul posto sono immediatamente accorse due ambulanze, i sanitari delle quali nulla hanno potuto per salvare la vita del 47enne. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Teglio e i vigili del fuoco di Tirano. Gravi le ripercussioni sul traffico data la chiusura del tratto stradale interessato dall'incidente. Dal 2009 Adriano Folatti, professionista stimato nel capoluogo, dirigeva con successo e tanto impegno un centro di odontoiatria all'avanguardia nella nostra provincia, situato proprio nel centro del capoluogo. La salma è stata trasportata nell'ospedale di Sondrio. Ed ora cambiamo decisamente argomento, perché a Chiavenna istituzioni, parte politica e allevatori sono tutti d'accordo sul nuovo pacchetto di linee guida da mettere in campo contro i grandi predatori. Obbligatorio creare un patto regionale, nazionale ed europeo, ma vediamo i particolari nel nostro servizio. Il sindaco di Chiavenna, Luca Dell'Abita, lo ha definito l'avvio di un nuovo percorso. Anche perché un convegno di questo genere qui in Val Chiavenna non c'era mai stato. Dinanzi alla nosa questione delle predazioni c'è un gruppo che sempre più sta divenendo rete e quella rete non si rassegna. È chiaro l'indirizzo del documento programmatico presentato durante l'incontro dello scorso sabato raccogliere e condividere la preoccupazione della popolazione Val Chiavennasca dinanzi al dilagare dei fenomeni predatori ed apparizioni di lupi ed orsi. Rimanere al fianco di tutte le attività agricole del territorio, sia aziendali che obbistiche, anche perché loro è il ruolo di custodi delle biodiversità montane. E questo prevede ovviamente da parte di istituzioni regionali, nazionali ed europee una presa d'atto sul numero reale dei grandi predatori e la revisione di alcune norme già in essere. Numerosi presenti alla giornata organizzata dal gruppo promotore della raccolta firme Comitato Valtellina e Val Chiavenna a tutela di persone e animali dal lupo. Giornata aperta con l'incontro organizzato nella sala assemblee della comunità montana e proseguito poi con il meeting nella Casa Alpina San Luigi di Campodolcino. Ci dispiace di dover dire che abbiamo avuto tanti problemi e dire anche altrettanto che per una sfiducia che c'è totale verso l'attività pubblica, verso l'attività amministrativa tanti, tanti vuol dire che il 70% delle persone predate non hanno fatto denuncia. Perché? Perché se devo fare la denuncia bisogna sapere che nel momento che faccio la denuncia devo fare anche lo smaltimento secondo legge. E fare lo smaltimento oggi secondo legge, signori miei, vuol dire impegnare dei bei soldini. E allora la gente dice ho avuto il danno io mi arrangio e sistemo con le bestie faccio un buco metto un po' di calce e smaltisco il mio danno subito. Ci sono due tipi di problematiche uno delle persone che naturalmente sono sul territorio che lavorano che è una problematica di paura di timore paura per se stessi per le loro famiglie per il bestiame che hanno naturalmente perché è la loro fonte di vita e poi c'è tutto un altro aspetto che è la gente fuori che non è direttamente nel ruolo che naturalmente comincia a avere paura. La politica non è troppo concreta dicono molte cose ma diciamo molte cose poi non sempre riusciamo a concretizzare come si dovrebbe. E il malcontento sale fino a manifestarsi in azioni come quella messa in atto lo scorso anno a Bellinzona quando davanti alla sede del Palazzo del Governo furono portate le carcasse di 20 pecore predate. Non ci sono storie c'è solo una soluzione o il lupo o noi. se si vuole salvaguardare la specie del lupo bisogna individuare dei posti adeguati recintare e metterli dentro con tutto quello che si può fare. Quelli che sono fuori sarà poi la natura che farà il suo corso. E restiamo in tema. Fuori programma per una famiglia in gita sotto il lago della Casella al confine fra i comuni di Albosaggio e Caiolo. Papà, mamma e due figli a 1700 metri di quota hanno infatti avvistato un orso a soli 100 metri di distanza. Naturalmente si sono subito allontanati ma lo spavento non è stato da poco. Vediamo. Lupi, orsi, cinghiali. Avvistamenti certi altrimenti magari dettati dalla suggestione. Sicuramente anche per l'uomo un pericolo in passato troppo sottovalutato oltre alla predazione su animali e danni alle coltivazioni. L'ultimo avvistamento dell'orso a 1700 metri di quota in Val del Livrio a raccontare una famiglia di Albosaggio che sono trovati a un centinaio di metri di distanza. La zona quella dove ad agosto dell'anno scorso un orso forse lo stesso era stato visto da un cacciatore. L'orso è stato avvistato sotto il lago della Casera circa 1700 metri di quota in un alpeggio che fa parte di quell'area di quella zona. Mi approfitto dell'occasione per ringraziare la famiglia che mi ha avvisato mezz'ora dopo l'avvistamento perché questo è il modo corretto di comportarsi quindi un esempio di sensibilità civica importante perché mette nelle condizioni il sindaco dell'amministrazione comunale di segnalare che in quella giornata in quella determinata zona c'è un orso e quindi chi l'escursionismo o chi sale quella zona sa che deve stare un momentino più attento fare rumore e segnalare la propria presenza. Papà, mamma e i due figli hanno quindi allungato il passo allontanandosi prudentemente dalla zona e vincendo la tentazione di fotografare o filmare il plantigrado che a sua volta si è disinteressato della famiglia in gita. Le guardie provinciali sono attivate immediatamente e stanno monitorando la situazione. Nei prossimi anni dovremo sempre più convivere con questi grandi predatori le scelte che sono state fatte nel passato in Trentino oggi sono scappate di mano come si dice il giocattolo è diventato grande e chiaramente le zone di espansione dell'orso è l'adamello e subito dopo il versante bresciano e della provincia di Sondio quindi finché non ci saranno norme che andranno a limitare il numero di esemplari nei prossimi anni sicuramente avremo sempre più presenze di orsi e di lupo sul nostro territorio. Doverosa la prevenzione segnalando ogni avvistamento ma sicuramente oggi si sconta anche il tempo perso ad affrontare un tema che per anni è sembrato marginale e che invece ci tocca da vicino i grandi predatori non conoscono i confini geografici e si comportano come è nella loro natura. Io dal 1998 che seguo la vicenda della reintroduzione dell'orso in Trentino perché ero curioso di sapere come sarebbe andata a finire quello che era nato come un progetto di richiamo turistico ma spesso come succede in Italia poi le cose invece di essere gestite vengono lasciate a se stesso. E certo nonostante leggi normative già codificate si assiste spesso a ricorsi al tarfugo in avanti polemiche in un continuo tir e molla che certo non aiuta ad affrontare e risolvere i problemi. Ed ora in bassa valle perché Morbegno dice addio a Flavio Begaglio 84 anni commerciante di professione ma soprattutto uno spirito libero sempre pronto ad aiutare gli altri. Croce Rossa Avis il carnevalissimo solo per citarne alcuni sono gli ambiti dove Begaglio ha contribuito a far grande la sua Morbegno era proprietario dal 1982 del bar Flavio prima aveva gestito il bar Settebello lo storico bar pasticceria Capuccini ma sempre con la sua professionalità il sorriso contagioso e le sue immancabili bretelle sopra la camicia Flavio lascia la moglie Rosanna i figli Romano e Luca i funerali si svolgeranno domani alle 10 nella collegiata di San Giovanni da Morbegno a Sondre perché siamo stati nel capoluogo per l'inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa vediamo gli amici della Croce Rossa sono persone abituate a parlare con i fatti ad occuparsi più degli altri che di loro stessi il taglio del nastro della nuova sede operativa di Sondre in zona La Piastra è però uno di quei tutto questo è stato reso possibile grazie anche al bando ministeriale di riqualificazione delle periferie a cui è aderito il Comune di Sondre e la Croce Rossa italiana per un importo complessivo di 2,2 milioni di euro di cui 1,7 assicurati da fondi ministeriali e i restanti 500.000 da fondi garantiti in parti uguali da provincia e Comune di Sondre le organizzazioni complesse svolgono la loro attività per tanto tempo se sanno coniugare tradizione e innovazione e anche una nuova sede evidenzia una capacità innovativa facciamo i complimenti per la Croce Rossa per tutto quello che ha fatto e tanti auguri per tutto quello che farà ancora nell'interesse generale una bella palazzina tre piani gli uffici i garage ancora i magazzini tutto necessario all'attività della Croce Rossa una grande sala riunioni e il laboratorio sociale a completare una struttura funzionale e moderna nella commozione di Giuliano Gualteroni si legge quanto la Croce Rossa si avvicina alla gente che soffre io sono veramente emozionata tantissimo ma con me anche tutti i volontari è una giornata bellissima finalmente abbiamo questa sede che direi proprio bella che ci permetterà di lavorare al meglio di dare ancora più qualità e più efficacia ai nostri servizi perché possiamo riunirli tutti qui in un unico posto e il coordinamento di sicuro risulta molto molto avvantaggiato taglio del nastro tanto importante da coinvolgere giustamente anche i vertici nazionali della Croce Rossa italiana si tratta di mettere come ho detto a servizio dei cittadini in particolare dei cittadini più in difficoltà nei nostri servizi e nelle nostre strutture e quindi anche in questa occasione il tentativo è quello di ampliare la gamma di persone servite perché sappiamo bene che sia la situazione attuale sia quella internazionale richiamano un impegno ancora maggiore del volo interiato della nostra associazione enti rappresentati da Alan Varinetti consigliere provincia di Sondrio da Francesca Canovi vice sindaco di Sondrio affiancata da Marcella Fratta assessore alla cultura da Lorena Rossatti assessore alla protezione civile molti sindaci presenti e con loro Francesco Venosta presidente della Banca Popolare di Sondrio e Umberto Colli direttore regionale Lombardia Nord di Credito Agricolo Italia è un buon segno di welfare orizzontale laddove c'è collaborazione tra il privato e il pubblico si riesce ad arrivare vicino a quelle che sono le esigenze le stanze della popolazione e non manca l'impegno la presenza del comune capoluogo è un progetto che è nato dalla collaborazione di Corce Rossa ma con gli enti istituzionali quindi comune e provincia ma anche ci sono una serie di soggetti privati che hanno sostenuto per cui è un bel progetto di connubio tra sponsor privati e sponsor istituzionale sempre la piastra breve sarà inaugurato il centro servizio per il contrasto alla povertà Croce Rossa Sondrio oggi ha in carico 220 famiglie bisognose quella cui è destinato al pacco viveri mensile prezioso il ruolo delle infermiere volontarie nella raccolta fondi anche per i lavori e gli arei di interni Croce Rossa ha potuto contare su tanti amici iniziare da Canco Primo Aiuto Onlus e da Fondazione Pro Valtellina Onlus con la Croce Rossa italiana abbiamo sempre collaborato anche in passato la collaborazione è sempre interessante ma qualsiasi iniziativa che possa avere ricadute sulla popolazione e sull'aiuto alla popolazione dei vari territori che ha anche un primo aiuto se è possibile ha sempre cercato di aiutare e lo farà sempre non da meno la Fondazione Pro Valtellina Onlus come Pro Valtellina abbiamo contribuito volentieri appunto per la realizzazione degli spazi dedicati a un'aula di formazione quindi per i volontari formazione per i cittadini i volontari della Croce Rossa di Sondrio sono circa 540 oltre a 63 dipendenti e a 51 soci sostenitori le targhe all'ingresso della nuova sede ricordano tutti i donatori perché la Croce Rossa resta una unica grande famiglia mentre a Colico scende il campo la solidarietà perché solo in questo modo sarà possibile sconfiggere quelle che vengono comunemente chiamate malattie rare patologie che in Italia colpiscono circa 2 milioni di persone ne parliamo nel servizio il calcio unisce sempre e tramite il calcio si riesce sempre comunque a ottenere dei grandissimi risultati e l'obiettivo è stato centrato appieno nel campo sportivo di Colico proprio così come auspicato dal presidente della Colico Derviese Ernesto Maglia in apertura della manifestazione tenuta sabato scorso un appuntamento che ha rappresentato decisamente più che una manifestazione calcistica a scopo benefico così come da cartellone un'occasione importante fondamentale per poter sensibilizzare l'opinione pubblica dinanzi a quelle comunemente chiamate malattie rare pensate il numero di quelle conosciute e diagnosticate è di circa 8 mila numeri che crescono con i progressi della ricerca genetica e nel nostro paese i dati ci parlano di circa 2 milioni di malati rari patologie per le quali è decisivo creare gruppi formare consapevolezza disse il professor Silvio Garattini ideatore e fondatore del Mario Negri è che tutto ciò che viene trovato nel mondo di questa ricerca grazie a tantissimi ricercatori che ci sono che percepiscono delle borse di studio e niente di più non viene brevettato e va a favore di tutti quindi nessuno scopo di lucro ma solo del grande grande volontariato purtroppo chi si trova in queste situazioni deve per lo più girare fino a che trova chi riesce a dargli una risposta ai suoi problemi come disse Garattini deve iniziare il viaggio della speranza e allora allora è necessario uno sforzo da parte di tutti e quello sforzo c'è e c'è stato perché sul campo di Colico sono accorse le formazioni giovanili di Colico del Viese e Solarity di calcio femminile delle All Blacks Belle Glorie e del Kral calcio femminile di Biella per un incontro e di calcio maschile degli All Blacks Vecchie Glorie della Edison e della Nazionale Italiana Gente Immobiliari per un triangolare ma sono stati tanti gli sponsor presenti a cominciare dal mondo dell'imprenditoria e dell'associazionismo perché quando c'è bisogno di solidarietà ognuno ha il dovere morale di fare il possibile le malattie rare come dicono in televisione sono uno tsunami ti arrivano così all'improvviso e ti devastano la vita perché ce ne sono di vari tipi alcune veramente micidiali diciamo così quindi bisogna aiutarle perché la ricerca ha bisogno di questo non sono appunto malattie comuni quindi diventa difficile anche curarle quindi dobbiamo star molto vicini a questo discorso delle malattie rare anche a livello nazionale sono state riconosciute quindi si sta evolvendo la cosa ma non dobbiamo mai arrenderci continuare in questa direzione nel gennaio scorso accolico l'inaugurazione della sezione locale della fondazione associazione ricerca delle malattie rare siamo veramente orgogliosi che a gennaio sia nata una delegazione di ARMR e quindi oggi lo sport scende in campo per per la solidarietà per la ricerca e per dare un futuro a chi in questo momento soffre queste malattie rare dipendono per circa il 90% dei casi dalla mutazione di un gene e tanto c'è ancora da scoprire da qui l'importanza fondante della ricerca noi ci occupiamo di raccogliere fondi per supportare le borse di studio di giovani ricercatori perché si è scoperto come tagliare ovviamente il tutto in maniera biologica nei laboratori quel pezzo di gene difettoso e andare a sostituirlo affinché la vita dell'ammalato migliori e per lo sport anche il ciclismo con il Gran Premio Inter Club Ponchiera vediamo com'è andata Giacomo Agostino pedale senaghese è il nuovo campione lombardo di ciclismo su strada categoria lievi il lecchese ha conquistato il titolo al termine della 38esima edizione del Gran Premio Inter Club Ponchiera gara valida anche per il trofeo del Zoppo Bresaure il talento lecchese ha battuto lo sprint nel cuore di Sondrio gli otto compagni di fuga molto dura soprattutto negli ultimi chilometri di una salita ho tenuto duro fino alla fine poi in discesa la discesa è stata molto veloce abbiamo un po' combattuto per prenderla per scordinare davanti e niente alla fine sono entrato per primo sull'arrivo ho fatto la volata sono riuscito a vincere sul podio i Bresciani Francesco Baruzzi e Marco Loda gara subito movimentata da un generoso tentativo di fuga a Caiolo anche se le salite del percorso hanno ristabilito ben presto le gerarchie dal comitato regionale arrivano parole ed elogio per la storica gara valtelinese bella combattuta sono usciti dei gran bei nomi l'arrivo è stato veramente un bel arrivo con un arrivo l'ho detto prima con dei ragazzi bravi che secondo me faranno bene pure l'italiano in Piazza Garibaldi a Sondrio la soddisfazione degli organizzatori era palpabile per una prova che assegnava anche la medaglia d'oro Francesco Dioli alla memoria per la prima volta in Valtellina provincia di Sondrio abbiamo abbiamo avuto la possibilità di ospitare il campionato regionale Lombardo questo secondo me è una cosa che ci rende orgogliosi di quello di quello che facciamo perché in tanti anni 38 gran premi ci hanno premiato la federazione la federazione regionale ci ha premiato ecco per questo impegno la coppa Agostino Bombardieri al miglior valtellinese è andata a Matteo Compagnoni della SD e Valtellina Pedale Morbeniese per una Valtellina sempre più votata al ciclismo è stata abbastanza dura la salita fino alla salita del ponchiera sono stato lì col gruppo e poi ho subito un po' la salita poi mi sono filato giù in discese e sono dato il traguardo il portaturismo è in assoluto uno dei connubi più forti insieme probabilmente al comparto diciamo così della gastronomia e della qualità della vita e dell'ambiente in particolare poi all'interno di questo sport e turismo sicuramente il connubio Valtellina e bicicletta è uno dei più forti dei più attrattivi e sui quali probabilmente è opportuno non solo insistere ma continuare a crederci e a investire e con il ponchiera per il movimento ciclistico provinciale si è conclusa una primavera di primissimo piano per gli appuntamenti del ciclismo giovanile ieri a Trieste è andato in archivio anche il Giro d'Italia Under 23 con il valtellinese Alessio Martinelli in maglia bianca di migliore italiano grazie al suo sesto posto nella classifica generale un evento riuscitissimo una bellissima giornata ci aspettavamo una gara spettacolare e così è stata abbiamo eletto oggi il campione regionale e questo per la città di Sondrio e per l'interca del ponchiera può essere una grandissima soddisfazione e questa era l'ultima notizia buon proseguimento di ascolto e di visione con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti